Salve Cristiano, lei non ha come gestire soltanto la situazione di grande entusiasmo, ovvero non soltanto la squadra ma anche della gara, volevo chiedere se in vista della partita così importante teme il rischio di poter gestire il gioco dopo una situazione in precedenza per la prima volta da parte del campo? No, io non penso a questa cosa, l'inizio della gara c'è 0-0, dopo spero che la migliore squadra vincerà e soprattutto spero che su questa partita, solo su questa partita, saremo la migliore squadra, giocavo in casa, spero che sarà un vantaggio, vedremo, però ci sono tanti grandi giocatori nel campo per domani e sicuro che può succedere una grande partita, anche è difficile dire questa cosa prima, può essere un 0-0 banale, però non penso, grazie grazie grazie